Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite capitolo 5 stagione 3 oggi primo giugno 2024 è uscito il nuovo bundle della crew con skin, backpack e piccone che andremo a vedere in un secondo momento sono qui per parlarvi dell'aggiornamento 30.01 uscito venerdì mattina che ha effettivamente dopo le polemiche di alcuni content creator Epic ha deciso di nerfare i veicoli veicoli che vi ricordo sono al centro di questa stagione e i nerf hanno effettivamente cambiato lo stile di gioco o cambiato l'impronta di questa stagione io direi proprio di no perché? Perché è vero sì le armi, i veicoli dei boss ora non si rigenerano più è vero che in solo, come in questo caso, i punti vita dei veicoli sono stati diminuiti è vero anche che le torrette mitragliatrici ora non sono più dei laser ma comunque se vi trovate di fronte a un veicolo con la mitragliatrice difficilmente ne uscirete vincitori e quindi, come in questo caso e quindi sì, sono stati nerfati i veicoli a 360 gradi ma no, non ha risolto il problema di questa stagione che a mio avviso se manterrà fino al 16 di agosto questo mood tra parentesi, penso proprio di sì e alla lunga, secondo me, questa cosa stuferà un po' tutti i giocatori perché sì, divertente usare i veicoli ma per tre mesi di fila a questo punto direi cambio, metto su Super Mario Kart e lì mi diverto a usare cannoni mitragliatrici a tema Mario ma non gioco a Fortnite detto ciò, fatemi sapere invece voi cosa ne pensate di questo aggiornamento nerf su i veicoli di questa stagione 3 del capitolo 5 sono curioso di sapere voi cosa ne pensate con un commentino qui sotto e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete rimanere aggiornati su tutti i video e le live che escono quasi tutti i giorni video dedicato alle novità e alle map creative per livellare velocemente e live insieme per divertirsi e andare anche a giocare con alcuni di voi detto ciò io vi ringrazio e adesso passiamo invece a vedere cosa è uscito nella crew del mese di giugno mi lascio al video ciao 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 ciao